musica ciao a tutti i ragazzi sono Dventor Magic oggi siamo insieme a devo alcazzata 5 che sta sclerando insieme a me no non sta sclerando ma è sclerando non proprio però sembra quanto strano cosa cazzo ho visto dietro di me cosa hai visto mi ha sembrato vedere un creeper ho detto cazzo c'ho 13 diamanti come se morivo lanciò una di quelle bestemmiate che esplandeva al computer staglia morrendo poveretto sto computer ragazzi perdonate lo carichi ai video tutti i giorni ecco ci manca fa ginnastica bagato assurdo aspetta io ti vedo lo vedo lo vedo anche da qua tonch 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 ok ma che what the fa adesso ok però li ho tirato via via è andato in casa no sei sono bagato ehm oh santo ce l'abbiamo bisogno di altro di altro spazio questa cesta riesce a trasferirla no non con la roba dentro io un po' di roba la sto riuscendo a prendere e' un attimo devo oh 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 guardalo ciao aspetta che adesso venghi perché è una cosa divertente c'è un sacco di roba di cui dobbiamo sbarazzarci sbarazzarci aspetta vado al piano di sopra a vedere cosa avevamo fatto al piano di sopra salutate bob non abbiamo finito cosa abbiamo fatto ciao è vero che ciao bob basta ciao bob è questo ultimo bob ho l'arcopotenza vieni ti metti come è che c'è sopra un pezzo di carbone ti metto e sotto questo allora noi invece craftiamo tutto questo legno cosa ci facciamo ad esempio i primi aspetta che mi prendi ti ho messo l'arco lì prendilo questo legno qua lo uso magari più pregiato mi sa che l'hai preso perchè è scomparso non c'ho più spazio come dice la voce no quello è proprio quello ah si era il mio quello panz 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 ti do la tua roba eccomi qua cosa facciamo quindi diamante aspetta ti do ho pensato di fare tanti piccoli di monto condizionare anche nel lento questo e questa non ce l'avevo ti ho finito lo spazio comunque ok per me la termine me la dai un attimo me la dai un attimo fai ceste doppie di tutti e due si 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 ne ho veramente si ok magari facciamo un'idea quanto io ci posiziono tutto ciò ci posiziono dentro tutta la mia roba io ci divido tutti i tipi di legno ma c'erano se lo trovano nella foresta e dove te mi hai detto non craftare il legno io lo craft e potresti per favore e dal mio gioco quanti metti abbiamo qua ci metto in me qua ci metto la roba ma comune a tutti si si è assolutamente faccio così non solo no 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 ho una torcia in mano solo che non la vedo non la vedo non la vedo se intanto piazza un letto mamma che così non ci tiene spazio lì ho giusto quanti quanti vecchi abbiamo in totale o guarda che sopra le non hai chiuso eh lo so no c'è il mio spagnolo milano milano la mia roba si intanto ti do questa roba che so che il tuo di sicuro questo tuo di sicuro poi vabbè l'altra roba facciamo un po' così eh vado a chiudere il buco sopra se mi basta la roba e vado anche a mettere a cuocere il tutto ciò ok io voglio questo lo mettiamo qua questo notte ma c'è del vetro tieni abbiamo dei signi ci devo craftare dei pannelli sei craft dei pannelli questo qua me lo tengo da diventare mi ha dato una spada per casa c'è 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 tini dove sei non si so se vogliono lo faccio con il nostro ma di nuovo barco di luce se guardi la progetti da una parte all'altra della casa così no più lentamente data parte ora a te non lo vedi perchè io vedo se guardo di qua guarda il mio di qua se faccio così faccio ma è veramente più combatti mi sembra che sia naturale per Minecraft secondo me avevamo preso delle piante della giungola se non le avevamo presa cosa piante di cosa io ho una carota da piantare quella è buona ah te l'aveva dato uno zombie mi ricordo si ce l'aveva dato uno zombie aspetta no ci volevo mettere la vabbè il vetro io pensavo di fare tipo una cosa fighissima con tipo delle stanze volanti ognuno si fa la sua distanza io me la faccio dove ce la facciamo dove ce le faccio in questa direzione dove me la faccio me la faccio me la faccio tu vuoi metti qualche torcia in giro io vado a metrò a posto tutto qui cosa c'è la roba la mia casa la voglio fare legno di querce c'è ancora Bob qualche scassa le balle dopo vado due ore giù lo uscito boh ha giusto di avere sanitario anche a posto vi dirò io quando riuscirò cambiare skin già in video ho cambiato skin aspettaci i miei pannelli di vetro ma che salute mi ha finito no io ho fatto un po' vero ah ti sei detto auto salute esattamente no c'è qualcosa di strano che non ti va bene no perfetto perchè non ci facciamo qua abbiamo un sacco di ferro perchè non ci craftiamo delle armature che sarebbero utili ormai un attimo i picconi ce li facciamo con il diamante inizio facciamo un corpetto inizio a craftare inizio a craftare magari facciamo un lavoro così vai più indietro quel pezzo è volato giù io non lo vado a raccogliere perchè non c'ho voglia in questa serie ragazzi se vi chiedete la differenza perchè la stiamo facendo eccetera abbiamo pensato almeno io ho pensato in questo singolo istante che faremo in pratica ognuno la sua casetta di separata cioè tutta una tutta l'entrata è tutta una in pratica le case non è sempre la stessa però in pratica è separata perchè come vedete che sto facendo adesso è separata l'entrata non mi sembra un'idea carina poi voi scrivetemelo nei commenti già che questa serie non è come l'altra che è pre-registrata questa è a poche settimane di differenza magari è felice tieni aspetta dove sei finito sei ancora più su bob se stai lì ancora ti uccido e non scherzo aspetta tieni allora prendila al volo eh te lo metto lì questa 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 e questa adesso dovresti avere tutto in ferro dovresti essere vestiti totalmente in ferro se sono molto figo detto il farlo qua in fondo io ho l'esperienza 19 tu sono morto un sacco di lote no no perché ti ho fatto questo è passato di livello io sono a livello zero io ho zero di esperienza no forse ho un pezzo ho sbagliato il mio numero 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 voglio fare un lavoro se ci riesco cari miseria vuoi fare qualcosa di strano te lo immaginavi che me li metterò da questa parte si mi sarò costretto a fare un lavoro che non mi piace perciò 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 c'è quanti lette abbiamo ci vediamo due allora magari ho notato mi hai sposto oh bob ti conviene muoverti l'ultimo avvertimento se quando torno giù non sei via io sto facendo tale casino ma no la mia scala ora sai che non puoi più andare via eh ecco perfetto no 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 uccido bob no no lo uccido io fermati fermati subito no da si di un deficiente in cerca di uccidere bob di un deficiente deficiente bob vedete eh ultimo avvertimento ormai rodato ciao oh yeah bob non ti ricordavo cosa aggressivo eh fatto l'ucciso no l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso si bob è più aggressivo di prima no 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 ma non c'è più bob no ma che casino sta succedendo questa sera ragazza di freddo sarà che deve un nome di animali si può si pescheranno io ho del filo se io faccio un altro letto così ne abbiamo due abbiamo abbastanza filo direi io mi mangio delle mele io mi letto il mio fatto vado a il tuo orario ne faccio aspetta migliorare in alto letto a parte lo mettiamo una verità non va un po' di rana con una mano no no io ho già ciò che mi serve mi ha avanzato 4 di fila hai una piantina della giungla un attimo tu hai da mangiare io voglio sto cosa di un torrent si può bloccare momentaneamente si ma perché fa così togli un attimo questo ti do un consiglio abbassalo se puoi aspetta non lo puoi abbassare tipo più giù si oh non è molto più comodo così poi fai questo te lo tieni solo così ok beh adesso cosa fai così ora fai così e fatto adesso dovrebbe lagare di meno micraf si ok perché no lagga sempre con no un po' meno no lagga meno ehm è tuo questo perché io non l'ho piazzato eh io vado l'avventura ah uiii morirai si infatti beh no aspetta non vado da solo non so se ci vuoi ho l'arche incantate quindi aspetta che ma non hai proprio tanti colpi con l'arche incantate fatto ora devo mettere in grado ehm questo qua lo togli oppure allora queste le mettiamo qua ho sbagliato di nuovo queste le mettiamo qua e queste mele me le metto qua eh qua dove? non lo so cosa stai facendo? sei caduto no 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 che cacchio brutto bagarosa ti porto dietro il l'arco eh ma non è che hai tutte le frecce tu? non è che non hai frecce? ehm se il ce no non ne hai? eh vai a vederne nella mia cassa ti do il permesso vabbè non è che non puoi tanto ci sono andate tutte le volte ci sono andate un sacco di volte ormai io ci sono andate una sola vediamo otto pezzi di selci e otto frecce non fregarti le mie frecce brutto uccidere milioni di mob perché le frecce perché sai che io le frecce me le guadagno uffa mi diventisco sempre di prendere il cibo che io le frecce me le guadagno sempre vabbè però se vuoi dividiamo scusa oh non mi piace perché le dà un sacco a poco che porco vuoi fare le metri che poca beh parla di metri infatti io dico sempre ma dai ma stanno solo mangiando dai però mi manca poco bene no mi sono dimenticato le frecce lol ce mi sono dimenticato le piume lol piume la lol 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 l'ho più di così come quando quindi sto trovando una zona nuovissima si il m per me dopo vedremo le coordinate ma sto oh un maiale si ha parecchia giocola bene e cosa la usiamo mi fotto l'albero ci faccio una scala tipo ci vado su torno giù e rompo tutto è una tecnica che volevo fare aspetta ora però mi sembra difficile allora non riesco a vedere che lo stia arrivando la notte vabbè cercheremo di sopravvivere minecraft io mi porto dietro del cibo allora a questo punto se dobbiamo rischiare di morire non mi porto dietro niente di importante no non prendere dietro niente una spada una cetta massima in letto nemmeno ecco sono caduto giù ho letto assolutamente rischi di perdere al 100% mettilo lì vabbè non fare magari al massimo letto matrimoniale che non siamo gay no no non ci riesco volevo metterlo sopra la mia la mia cesta era un bel po' comico aspetta stavo dicendo sopra la tua test no non proprio voglio vedere se posso fare posso crearmi dei bug dei bug? sì quando torni a casa se torni a casa vedi ti piace creare i bug? questo qua gli piace creare i bug? no ed è anche bravo è quello che mi ha insegnato ci sono però dei bug che sono anche carini per fare delle trappe ecco inizia piove mi dispiace ragazzi ma questa qua la teniamo via perché la bug al server non è per questione che non mi va la per oggi sì anche ma si chiarete però o giusto questo che non lo dovevo stare no potevo prendere sì anche su stupido potevo prendere le pietre no non lo posso mettere perché no 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 sono fuori sono fuori no più che fuori di testo sono beh anche quelli beh sì bohmano stupor spettiamo cliccata la roba in questo perchè sto non mi ricordo forse ma che versione è questa qua 1.5.1 forse mi ha dato un alberino perchè mi ha dato questo voglio metto qui in mezzo alla stanza ok ora è notte voglio un alberino della giugla ma da te non è notte? sì ah ehm adesso mi faccio una gestione ci fico dentro tutta la mia ficca oh no senti dall'occhio dalla mia camera si sente sempre chi arriva hm lo sai che hai lasciato un punto al cui modo potrebbero entrare sì lo so ma da tanto non importa perchè su un albero è una pirata e poi fanno fatica nel... vabbè si posso entrare come che in tutto un albero non so riuscire trovare neanche un alberino la giugno da che non lo vedo quindi non so da che parte sia andato tu di là c'è il bioma della neve forse di là si da dove c'è il bioma della neve si ma come è possibile che un albero... io voglio un alberino uffa ho trovato un albero inutile da qua si trova solo sti qua no? che veramente credevo... che cazzo perchè cosa vuoi trovare? un albero della giungla è quello che vuoi però vorrei piantare... cioè vorrei la piantina no? no oh eccola eccola missione compiuta attento aderendare adesso con il tuo tempo si ahahah e appunto no guarda che quella lì che piantinassi possiamo mettere eh quindi si riscontra ma no che che fissuti in particolare eccolo guardalo ecco lo tu giù adesso ok mi dai coordinate dove sei 79 perfetto allora resta un po' un attimo scusatemi 18 minuti attento perchè il minecraft attivato ciao a tutti dobbiamo salutare perchè ZW75 non impegno di andare via ciao a tutti ragazzi da Adventure Magic e ZW75 al prossimo video cercheremo di tornare a casa con un creeper ciao a tutti ragazzi ciao aspetta ok ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti